L'aggressione aveva suscitato scalpore in città. Siamo in via delle Anselmi, in pieno centro, a pochi passi dal salotto di Piazza Repubblica, quando un cardiochirurgo e la moglie incinta chiedono di uscire con l'auto dalla selva di motorini parcheggiati. Un gruppo di ragazzi, dopo l'indifferenza iniziale, rispondono con le mani, tra le urla della donna in stato interessante che aveva fatto disperdere poi il branco. Adesso i carabinieri di Firenze hanno identificato due giovani, uno dei quali minorenni, tre responsabili di quel fatto che gli uomini dell'arma definiscono un pestaggio. Fondamentale è la descrizione della vittima, le immagini di videosorveglianza, ma la situazione della notte nel vicolo del chiosco degli sportivi per chi vive in centro è considerato un problema annoso. Io più volte ho visto questo scempio dell'occupazione del posto, ho provato a chiamare la polizia municipale sempre più volte, a volte anche d'inverno, di notte, malato e succede molto spesso che ti dicono che c'è una pattuglia, la stanno cercando. Una volta mi è capitato di stare un'ora e l'ho cronometrato perché è tutto registrato comunque anche alla centrale dei vigili. Un gran cassino a tutte le parti, ho passato una certura per bene stare a casa. Il medico se l'è cavata con 15 giorni di prognosi. Per i soggetti denunciati a piede libero l'accusa è di violenza privata e lesioni personali, ma le indagini dell'uomini dell'arma adesso proseguono incessanti per arrivare agli altri componenti del gruppo.